Ernesto Arbitrio, che ci parlerà di indicizzare e cercare tonnellate di dati con Elasticsearch e Django. Grazie Ernesto. Ok, ciao a tutti. Io sono Ernesto. Sono un tecnologo ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e... Ciao Robby. E mi occupo principalmente di tutto quello che è l'ambito Big Data nel gruppo in cui lavoro. Oggi vi parlo di un problema che è arrivato come progetto di ricerca all'interno della nostra unità, che era quella di indicizzare, a detta del nostro committente, una mole di dati enorme e poterci ricercare dentro per estrarre delle informazioni. E la prima cosa che ho pensato è che ho detto, vabbè, un sacco di dati, ho detto, vabbè, con un foglio Excel risolviamo il problema. Ma, invece, così non è stato, perché è arrivato un bancale con 10 hard disk e 37 tera di dati. E in questo momento vi vorrei raccontare il dominio applicativo del problema, giusto perché lo riporto anche negli esempi di codice che vediamo dopo. Il problema era indicizzare 37 tera di email e contenuti di mail, di cui non posso parlarvi la natura concreta del dato contenuto. Quindi i dati che avremmo dovuto indicizzare sarebbero stati metadati di email e contenuti all'interno dei subject e body della mail. La prima cosa che ho pensato è che usiamo Elasticsearch su una serie di nodi all'interno del nostro datacenter, anche perché i dati non potevano essere esposti all'esterno e quindi abbiamo dovuto adattarci all'hardware che era in casa. Abbiamo utilizzato Elastic1 perché era distribuito, quindi abbiamo potuto installarlo su 5 nodi, ognuno dei quali aveva 128 core e 96 giga di RAM. Con uno storage ovviamente adatto a contenere i dati e contenere gli indici poi. Abbiamo utilizzato Elastic, non so quanti di voi hanno mai usato o sentito almeno parlare Elasticsearch. Io sono abbastanza novello sull'argomento, nel senso che l'ho iniziato a utilizzare per questo tipo di progetto. Elasticsearch è un sistema distribuito per indicizzare documenti, quindi è un progetto basato su Apache Lucene, document based, ed è in pratica interpretabile, cioè tutto quello che è get e post dei dati va fatto tramite HTTP, quindi i documenti sono JSON based. Cosa fa Elasticsearch? Fa un sacco di cose. La cosa che a me sono servite è indicizzare dati eterogenei, perché i dati che arrivavano non avevano tutti lo stesso formato, fare una ricerca veloce all'interno degli indici, e poi vedremo come e che tipo di query ho utilizzato, e mi serviva per supportare poi applicazioni di terze parti che potevano essere o applicazioni prodotte direttamente da me o eventualmente collegate a applicazioni di terze parti del committente. Document based significa che la maggior parte, diciamo, di chi usa, almeno di quello che ho letto io su internet facendo un po' di ricerche tra conferenze, eccetera, eccetera, il fatto di poter essere usato in maniera assolutamente schemaless, gli indici contengono dati completamente schemaless, è un vantaggio molto interessante, nonché la possibilità di fare anche nesting e parent-child association. Significa che io posso, diciamo, più o meno interpretare i miei dati e fare associazioni come potevo fare relazioni. relazioni, una a una, una a molti, nei database relazionali. Per esempio, questo è un indice di tipo nesting, quindi in pratica pensiamo a un blog post e i commenti. Il blog post è l'entità, diciamo, padre, la parte di nesting sono praticamente i commenti che sono ovviamente un JSON innestato all'interno del documento, in questo caso blog post. Mentre la parte parent-child è diversa dal nesting perché la relazione può essere fatta non necessariamente all'interno del documento, quindi nel caso del blog post, nello specifico blog post, ma all'interno di, anche tra due documenti differenti. Quindi il parent può essere un documento e avere n child in altri documenti. Questo è un vantaggio perché, diciamo, i parent possono essere aggiornati senza fare il re-index dei figli. La stessa cosa, i documenti figli possono essere modificati, aggiunti, cancellati, senza pensare a quello che può succedere ai documenti padri. E i documenti di tipo figlio possono essere ritornati come results di una search request senza andare a fare traversal dai padri ai figli. In Elasticsearch ci sono principalmente due tipi di query che si possono utilizzare. Le normali queries unstructured, che come core methods, sono di tipo match, multi-match, phrase, fuzzy, regular expression e wildcards. e possono essere praticamente messe insieme, facendo per esempio due query di tipo match per matchare esattamente un termine all'interno di un campo del documento. Quindi se io ho una chiave titolo, posso fare un multi-match di titolo ciao, titolo mondo e metterli insieme con una compound bool e quindi vedere se è effettivamente rispettata con una bool query o una filtered query successivamente. La particolarità di queste query è che non sono cached, quindi diciamo sono quelle che si utilizzano per fare puro full text search perché anche per una questione di prestazioni full text search è not cached. Mentre i filters, che è l'altro tipo di query, sono molto più veloci, sono cacheable perché chiaramente i core filters sono diversi nel senso che io vado ad accedere direttamente a un range per esempio di date o posso fare geodistances, posso fare query tipo geografico con dei filtri tipo geobounding box e sono cacheable e quindi sono più rapide perché praticamente il risultato è una bitmap quindi io riesco ad escludere così una serie di documenti che non mi servono con una filtered query e all'interno dei risultati che è praticamente una parte ridotta dei risultati che io mi aspettavo fare full text search con una query normale all'interno dei documenti risultati dalla filter. quindi ho iniziato a capire quando è che dovevo usare uno e quando è che dovevo usare un altro avendo 37 tera di dati, scusate, dovevo iniziare a capire quali dati escludere prima di poter ricercare i dati che mi interessavano per poi passarli per esempio a un algoritmo di natural language processing che facesse sentiment analysis per esempio sul corpo della mail, quindi sul vero testo della mail. Quindi la differenza è come regola generale che mi sono più o meno ricavato o che ho letto comunque su vari blog è che una query diciamo di tipo full text, quando devi fare full text search io utilizzerei sempre un oggetto di tipo query quindi quando invece devo trovare una cosa, devo ridurre il mio campo di ricerca per poi applicare full text search applico prima una filter query. La differenza è che in pratica quando faccio full text search io ottengo un relevance score che è praticamente un numero float associato ad ogni documento. Quello che ottengo è un relevance score ordinato in ordine decrescente in base al documento più rilevante secondo il match filter che ho applicato. Faccio un esempio, se io utilizzo una logica fasi con distanza di tipo Lemstein che è la più banale che la maggior parte delle volte non funziona perché quello che ho capito e quello che diciamo abbiamo alla fine rilevato è che Lemstein può risolvere il mismatch tra i typo degli utenti che hanno sbagliato a scrivere tipo switchato due lettere invece di scrivere ciao uno scritto caio e magari la distanza, la differenza è 1 e Lemstein torna il match incorretto. O per esempio fare mismatch degli indirizzi email con dominio differente. Quindi se c'era mariorossi at gmail, mariorossi at gmaio io lo consideravo lo stesso from field del mio documento che sarei andato a indicizzare. Se avessi utilizzato wildcard o match invece di fasi avrei avuto un relevance score completamente diverso perché la logica dietro era un altro tipo di operatore logico che ho applicato alla query. Questo è un tipico esempio di query pure Elasticsearch significa che io utilizzo le API RESTful di Elastic in questo caso è un esempio fatto via bash con CURL e in questo caso sto facendo un'aggregazione di tutti i miei documenti che hanno come termine voglio che nel mio field sia post that date e faccio un'aggregazione di tutti i documenti quindi faccio una sorta di group by post that date se parlassimo in stile SQL sarebbe un group by post that date mentre la mia query reale voglio cercare tutte le categorie che hanno match di A tutte quelle che devono contenere il subject lorem e che non hanno nel body AMET a questo punto qua io ho tutti i risultati di questa query raggruppati per data di spedizione della mail questo è un esempio di stile Elasticsearch puro però praticamente siamo a Python quindi qualcosa di Python in queste slide dovevo mettercelo anche perché l'ho utilizzata nel senso che non volevo mappare le mie API su cento e passa endpoint che Elasticsearch ti dà e quindi il primo esempio che ho iniziato a studiare ho detto vabbè provo se funziona con requests ovviamente non poteva non funzionare quindi è più o meno la stessa query fatta però con Python requests e in pratica ho utilizzato poi ho visto che c'è una community molto attiva su Python e Elasticsearch che è praticamente guidata un po' da un ragazzo che si chiama Onsakral che ha scritto sia questa libreria che mappa uno a uno i endpoint di Elastic con API Python based è assolutamente puoi estendere tutte le classi che vuoi e l'utilizzo è banale nel senso che questa è una demo documento di esempio che è una mail più o meno con alcuni campi che avevo io nei miei documenti originali e non so se forse in fondo non si legge però in pratica non è altro che qui io importo l'oggetto Elasticsearch da Elasticsearch e in pratica quello che faccio è in pratica es.index gli dico il mio indice nel quale voglio andare a mettere il mio documento il doc type del mio indice che id voglio associarci e il body il body non è altro che questo documento qua a questo punto qua io ho un ritorno con un json che mi dice result created l'id4 nell'index email e altre informazioni di sullo sharding di Elastic se invece facessi un get posso utilizzare l'oggetto quindi di connessione S che ha creato una connessione su Elastic se io non gli passo nessun argomento lui si connette sul localhost porta 9200 che è quella standard che utilizza Elastic e ottengo il risultato che gli ho chiesto con tutti i campi a partire dall'abstract chiaramente essendo un dizionario ogni volta può cambiare essendo Python quindi un tipo di query con Elasticsearch è es.search body uguale il mio dizionario Python per esprimere il mio la mia query vera e propria però chiaramente non è altro che la stessa cosa utilizzare requests più o meno cioè quindi non dovevo fare altro io comunque me le dovevo scrivere a mano le query e scrivere una query scusate scrivere una query del genere a mano porta soprattutto quando sono un sacco di nested object all'interno del JSON è un vero macello e quindi ho cercato qualcosa di più comodo in stile ORM ok per chi di voi conosce Django in stile ORM in stile dialetto SQL Alchemy che potesse ovviare al problema di scrivere una query di un JSON tre volte e ne è stato di tre di tre livelli lungo 150 righe e quindi praticamente ho trovato ho usato questa libreria che è built on top di Elasticsearch Pi quindi c'è una forte dipendenza di Elasticsearch Pi scritta sempre dallo stesso autore di Elasticsearch Pi e che utilizza praticamente un metodo molto simile a quello che si utilizza in Django quindi io istanzio il mio oggetto search usando il mio client che è il client è Elasticsearch connessione al al cluster e poi posso applicare filter query quindi posso scrivere filter match categories filter match subject filter questo è un oggetto di tipo che mette in OR quest'altro tipo di condizione che gli sto passando è la stessa che abbiamo visto prima quando volevo che ci fossero tutti questi match ma che non contenga AMET nel body quindi questo è un NOT contain AMET nel body e poi alla fine di tutto aggrego per termine post dead date i risultati creando un bucket ok il bucket non è altro che praticamente un altro dizionario di risultati aggregati con un id univoco al result set vero e proprio dei risultati che in questo caso è in response quindi response object è response.s execute ottengo tutti i miei risultati e li posso accedere ai miei risultati facendo un'interazione sul mio iterabile che è response per le aggregazioni in pratica io me le trovo in un oggetto aggregations all'interno del mio response che viene automaticamente gestito da Elasticsearch DSL quando fai un'aggregazione in questo caso sta accedendo all'elemento al primo elemento del bucket aggregato per date quindi praticamente uno strumento che mi è servito tantissimo perché ho iniziato a scrivere tutto in pure elastic anche se utilizzavo Elasticsearchpy ho iniziato a iniziare a fare un po' di migrazioni e c'è uno strumento utile all'interno di Elasticsearch DSL che passando il vero e proprio dizionario della query te lo trasforma nel diciamo meta linguaggio dell'ORM del DSL alla stregua dei modelli di Django ho trovato utile per esempio creare dei diciamo dei modelli tipo persistence all'interno dell'applicazione questo significa che potevo crearmi una sorta di modello mappato sull'indice di Elasticsearch in questo caso il mio indice erano le mail e ho mappato praticamente tutti i campi in questo modo qua ho ridefinito il save per fare per esempio in questo caso qua splittare le linee del body all'interno del mio documento che veniva preso in carico dall'API e un altro metodo che nel caso in cui all'interno del documento era marcato come bozza restituisce true o false in base a se all'interno di post the date c'era un valore oppure era none ma giusto per farvi vedere che più o meno funziona come i modelli di Django e a questo punto qua per creare un oggetto all'interno del mio indice utilizzando il modello persistence visto nella slide di prima inizializzo il mio il mio mapping il message per me è email meta bla 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 e quando faccio article.save il mio articolo viene salvato direttamente sull'indice di elastic e facendo article che è il nome della classe .get prendo il risultato e lo posso accedere ai metodi dell'oggetto della classe praticamente facendo article.isdraft per sapere se è una bozza o meno per esempio quindi a un certo punto del problema cioè a un certo punto del progetto si è presentato ok io ho indicizzato i risultati ci ho messo 4 settimane per indicizzare 37 tera di dati ho creato indici che potevano essere collegati all'indice raw perché volevo per esempio creare il network delle mail ovvero il subject ha spedito n mail al subject b c d ed e io volevo sapere quali erano state veramente le interazioni e qual era il peso delle interazioni quindi a partire dall'indice a con degli script python che non erano non ha senso ora farveli vedere anche perché non c'è neanche tempo ho fatto diciamo ho creato una dashboard per permettere al committente di cercare i risultati applicarci delle funzioni scritte dal reparto di data science del gruppo che poteva essere non lo so secondo me questa questa conversazione è un alert perché ci sono dei termini che non mi piacciono o perché c'è stata troppa interazione in troppi pochi giorni va fatto un alert perché questa comunicazione è strana quindi cos'è che ho fatto mi sono creato una una vista all'interno del views.py di Django che faceva il rendering su un template e in pratica non faceva altro che cercare prendere dei dati da una form all'interno del mio template HTML andare a fare un searching dei dati con Elasticsearch DSL e ritornarli nel mio context come oggetto da poter poi usare all'interno dei template per esempio una list view il problema che il primo problema che ho incontrato è io faccio una ricerca su 37 terza di dati milioni di email ottengo 250.000 risultati ok ho sbagliato a fare la ricerca sicuramente perché non posso analizzarli comunque a 250.000 in una botta ma se anche sono 10.000 ho bisogno di avere un paginator che diciamo è necessario anche perché Elastic ogni volta che torna un risultato torna per pagine anche se tu utilizzi le 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 API REST via via HTTP quindi quello che è successo è che mi sono andato a mappare diciamo le API con un oggetto custom paginator di Django non ho potuto usare lo standard paginator di Django per il semplice fatto che non tiene conto del relevant score e quindi praticamente ogni volta che io facevo una ricerca e volevo paginare con il classico paginator di Django il relevant score era sempre uno e mi diceva che il total pages era uno e quindi non andava avanti quindi ho dovuto fare un trick che tra l'altro era anche uno degli issue di GitHub di Elasticsearch DSL perché molti avevano avuto lo stesso mio problema quindi per fare il display dei dati non ho fatto altro che impostare nei miei settings di Django un diciamo quanti elementi volevo mostrare per pagine in modo tale che poi il mio paginator mi divideva in base al numero di risultati diviso il numero del page sites quante pagine ottenevo per poter mostrare i risultati una cosa che mi è servita tantissimo è la funzione highlighting di Elastic questo è in pratica io faccio una query di search su voglio voglio vedere che il mio content abbia la parola Kimkey e gli dico fammi un highlight di content mettendo il pretag em slash em su tutte le parole matchate in questa query qua e il risultato è praticamente questo chiaramente la parola non coincide questo è un copy and colla da un'immagine di Google però questo è il risultato che ottengo per esempio se volessi fare un highlight e qua chiaramente se metto strong slash strong viene mostrato il risultato in bold invece che in highlight come nell'esempio in elasticsearch DSL basta fare aggiungere il punto highlight metodo dandogli i campi che vuoi mettere in highlight mettere nei settings di elasticsearch all'interno del syntax.py di Django il pretag e il post tag che problemi ho incontrato in pratica dovevo indicizzare nuovi dati mentre facevo anche ricerche questo era un problema di concorrenza un po' rompiscatole che ho provato a risolvere con Seleri conoscete Seleri più o meno cos'è in pratica con Seleri che è un gestore di code job sono riuscito a scrivermi un task che in pratica una volta che cercavo quando era in indicizzazione nel momento in cui il cluster era scarico il task Seleri si occupava di fare la ricerca in contemporanea sullo stesso indice su cui stavo reindicizzando i dati dopo una nuova ingestion e quindi ho utilizzato Seleri per fare uno share del task e eventualmente salvare la mail dopo che avevo finito la ricerca perché davo priorità alla ricerca piuttosto che all'indicizzazione quindi quello che mi aspetterei è tipo avere un elasticsearch DSL mi sarebbe piaciuto vedere ok questa roba qua una Django admin integration management command per fare reindex automatico e mapping degli indici autogenerati quindi una cosa tipo batteries included come fa Django Flask con una serie di cose però avete capito tutto quindi grazie se mi volete chiedere qualcosa visto che non c'è tempo vabbè tre minuti ti ho imbrogliato apposta grazie ciao complimenti per la presentazione grazie ti volevo chiedere come mai non hai utilizzato Django iStack per un motivo molto molto semplice ho incontrato Onsacral a Europython l'anno scorso e mi sono fatto spiegare un po' di cose da lui ho iniziato a scrivere il progetto in Elasticsearch DSL e ho lasciato stare tutti gli altri binding che c'erano in giro poi ho scoperto che ci sono altri non l'ho mai provato ma è stata semplicemente una fatalità ecco nient'altro un'informazione per quanto riguarda diciamo la parte che hai scritto su Preelastic avevi valutato anche strumenti preesistenti tipo Kibana o Neo4j per l'analisi del dato che cosa ti ha portato a non affidarti a quelli ma a scriverti allora Kibana se io avessi avuto dei dati faccio un esempio è retail e avessi dovuto scrivere avessi dovuto produrre delle analisi business intelligence oriented avrei usato sicuramente Kibana o un altro tipo di strumento ma le analisi che dovevo produrre erano troppo custom per utilizzare uno strumento tipo Kibana o avrei dovuto scrivere troppo codice custom per Kibana per produrre quello che mi serviva tipo tu mi hai citato Neo4j ho pensato anche a Neo4j il problema di Neo4j è che comunque avrei dovuto fare un ingestion dei dati da Elasticsearch verso la struttura di Neo4j e quindi avrei avuto comunque un collo di bottiglia eh lo so ma io l'ho provato e funziona veramente male tra l'altro ho parlato anche con uno degli core developer di Neo4j e mi aveva detto che comunque anche loro avevano avuto un po' di problemi soprattutto perché i dati sono tanti e quindi lui ha detto io con tutta sta mole di dati dico la verità non l'avevo provata anche se uno use case simile era i Panama Papers lui aveva provato a fare questa questa cosa ma aveva diciamo il limite massimo dei dati che aveva testato facendo questo passaggio elastic graph Neo4j erano 6 giga di Panama Papers quindi l'ho detto vabbè se tu non mi dici io non mi metto a provare abbiamo tempo per un'ultima domanda grazie per l'esclusiva io non ho ben capito se c'è Celeri come si colloca nella tua architettura cioè cosa fa il problema è io indicizzo mentre faccio anche le quelli sì indicizzo tanti dati mentre faccio anche le ricerche sullo stesso indice avevo trovato praticamente una necessità di lanciare la in pratica provare a Celeri ha praticamente la peculiarità di lanciare un task anche facendo un ritraio ogni x secondi ogni tanto praticamente Elastic ti rispondeva con un tipo un 404 se in pratica era in overload su determinati shard e quindi questa cosa mi ha portato ad utilizzare Celeri per riprovare n volte fino a quando il risultato non veniva fuori nella fase di index sì nella fase di saving sì sì mi riponeva appeso e tra l'altro il cluster il cluster hurt iniziava a bippare rosso e arancione perché praticamente lo sharding era sputtanato esattamente quello è il problema e quindi Celeri gestendo sincronamente i job 2 4 di Elastic non sono passato alla 5 ma io ho scritto troppo codice grazie mille grazie mille grazie mille